Sto team 2 sembra sdrogo ma sembra che ci siano più pipponi dentro Pedri è follia, Pedri è veramente follia Il bagnez è forte? Hanno fatto una carta orribile Poi dopo li vediamo, poi dopo li vediamo raga Appena finisco i lighting rounds li vediamo E dammene uno, se no facceli vedi e dandoceli no? Kek Yeah Adams 60 di tiro, vabbè incantè Manco male oh Nugnez Vabbè dai ce posso sta, buttar club Dai ma che ce frega dai Doppio manco male dai Non me lamento, so quelli brutti eh Perché erano quelli brutti se vedeva Però dove ce posso sta Virz mi piace un sacco Virz nuovo è veramente forte sembra oh Però non sbaglio, non c'ha tipo 5 di debole Una roba del genere Ah no 4-4, cazzo peccato Chi è questo? Ma un'altra volta Nugnez Ma che palle Nugnez simulator Fammi vedere sti grandi Madonna ma c'ha 5 di skill Porco due pedri ragazzi Guarda la migliore carta del secolo La miglior carta del secolo Ergrave 4-4 65 di aggressività Un po' poco infatti Eeeh Perché per grave è bravo in realtà Guarda la crua come ride Porco dio Virz c'ha 4-4 Però mazza 94 dei dribbling Oh il grande Brian Gill Mazza che cartina Cioè avete detto che questo coso mi assomiglia Solo perché c'ha il naso grosso Ma assomiglia Ma mettetevi un paro d'occhiali Porco due Vabbè ma in realtà Raspadori c'ha una bella carta Zì Raspadori in realtà c'ha quella carta Che potrebbe essere benissimo Iper baggata Zio porco Cacciatore Lo sai come viaggia Vabbè Adams Quell'altro Sti cazzi Roger Ibagnez Vabbè ma Roger Ibagna Mamma mia 2-2 Un po' brutti Allora vediamo 100k 100k Pacchettino ultimate E se prega Eh sì Dammo qua Vabbè se sei forte Saliba Ah no Cabo re Ma chi cazzo è Cabo re Ma questo tanto è uscito Ma me non l'avevo visto prima Ah che poi non è saliba Come si chiama quello Sali su Oh back to back Lì era lì Back to back Back to back Più preciso di questo Non ce poteva stare Dammi 3 su 3 Se mi s'abbracciamo Ma basta rega Ma sono due Due cose Sono usciti Ma sono usciti Due fidu star Ah rega Sono usciti Sì in 3 In 3 sono usciti Oh Sì Ah eccolo Sali su Eccolo Vedi Sali su Mancava lui Il campione Ma che è Gli Avangers I fontostici 4 I meravigliosi 4 Sperate Pedri Gravi Il centrocampo Del Parma Dalla carriera Oh Ma rega È arrivato quel momento Della giornata Lo sapete benissimo Che momento è ragazzi Allora Mi è stata a dir Che quindi non esce Però in realtà Non lo mettono in vendita Però Dai Pedri Fai il serio Fallo per il Parma Del Faina Dai Dobbiamo fare la reunion Ergrave Pedri A centrocampo Dai per forza Sì comunque a me Dopo un po' Comincia a farmi male Questa parte Tipo del pollice Mentre mi metta Sniper A Mi fa malissimo E voglio morire Secondo me fra una mezz'ora Pedri sta a mezzo milione Rega Quindi se l'avete trovato Secondo me conviene Che lo mettete in vendita Perché potrebbe effettivamente Abbassarsi molto Dai io Non mi fate ridere Che poi non sembro Realistico Che poi perdo Credibilità Perdo Post su Twitter Mamma mia rega Pedri è veramente Scarzo Come fa ad essere estinto Secondo me è da vendere Dai Pedri Fa il bravo Ma a me mi andrebbe bene A comprarlo pure a de più Il problema è che Ovviamente Gli mettono il range Stupido Ma perché pure la Crua è estinto Ma non ce voglio credere È estinto pure la Crua Quanto? Milione e tre Ma sono tutti estinti Capirai tutti estinti Ma che cazzo favo Ma che cazzo favo Con tutti estinti Scusa Vai raga Allora 11% Possibilità di trovare Un grande Future star Ragazzi 11% Porca madonna Però non è male lui No? Lo posso tenere bene esotica Ci ho creduto Come un coglione Ci ho creduto Niente Solo Gianmarco Può trovare Ginola È insane Ma chi è Ginola? Ma frate Ma tu c'eri di scherzi Ma onestamente Manco io sapevo Chi cazzo fosse Ginola Vatta a vedere Un video di Ginola Altro che Cinque De De debole Ginola C'aveva sei De debole Irla Un'altra volta Questo Ciao Ciao Vieni qua Ma che cazzo favo È pazza È proprio Salutato No no Che c'è No Dammi le cartine Ma te l'ho anche detto Che sono cadute Lascia le cartine Bravissima Ma mo Porco 2 C'ho le cartine Sbavate E fallo asciugare Fallo asciugare Vabbè Qua 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 Ma perché ci salta sopra così Allora aspettate Facciamo prima la squadra La Croix Pedri È vero Voglio usare Noia Ragazzo Grave Bellissimo Devo mettere Per forza Ferran Torres Arisa Arisa È obbligatorio Proprio Johan Cruyff Deve usare Virz Virz Lo possiamo usare Senza problemi Qua ci serve Un'altra Un'altra Icon Veramente Sdroga Questo team Il problema È lui Il problema È lui Ragazzi Questo Non lo prenderemo Mai Secondo me Pedri Non gliela Famo Dai Virz Che tanto Poi ti abbassi Campio No Let's go Pedri Shiny Hunting Zio Porco No No Più veloce De così Non potevo Fa Allora Ergrave Dovrebbe Sta Sui 900 Un po' Di più Un mioncino secco Per il grave 990 Bello Verginello Dai mortacci Tu Fammi fare T-rex Un attimo Scusa 995 Così Bello Vergine Mi piace Quanto è bella Sta carta Del grave Impazzisco Resta solo Lui ragazzi Ma Pedri Svegliate Perpendicolare Te e tu madre Porco Dove Te rotta Il cazzo Te pio manco Domenica Porco Due Vaffanculo Te e St'altro Coglione De Ferran Torres Metti Arisa GOS Gravi ATT GG Bella Incastrata Mi piace Ma qui la situazione È brutta Come cazzo Li metto Ma va bene 4 2 3 1 Ma che cazzo Me frega Adesso Dopo che abbiamo fatto tutto il team Tutto mettono Pedri in vendita Immaginatevi una roba del genere Il grave subito dentro Parisa Si gira Ma come ha presa quello Ma che è sta connessione Oddio il grave Mamma il grave pulito Arisa Stai a dormire Ma ti muovi tutto lento Ma che hai fatto Bravo Arisa Il grave mi pare Agile Cazzo Bravo Arisa Il grave No grave Bello Cioè Mi vuoi dire che perdo questo game Vabbè regà Come mi pare Cioè Tutto questo ho perso Questa partita Ragazzi Primo tempo 9 tiri a 0 Ma Ronaldo è una merda Ragazzi Ma non si muove Porco Dio Ho perso la seconda partita di VL Bellissimo 12 tiri Un gol Ronaldo me sa che lo mette esterno Mazza Virzo Virzo Vola Oh Ma mia Ogni tiro che più è gollo Che cazzo C'hanno 80.000 Di tiro C'hanno Ma da quanto vicino Devo tirare Bravo Eusebio Un'altra partita Comunque 3 a 1 Porco zio Quanti tiri ho fatto Non lo so Guarda che cazzo De partite Primo il 4-4-2 Regà Bello Virz GG Guarda che Florian Virz Secondo me Gli ha la molla Per ora Virz è sicuro Miglior giocatore Lo vedo tutto agile Lo vedo Ma lo vedi come corre Superato pure Kimpepe Poi l'avevo perso Però perché Sono io un clown Mazza che palla La gru Fammi vedere come corre Ammazza Ma ogni tiro che stoppi E golla no ieri Svegliate Ufff Ma mazzano ha riso Regà Oh Bravo Ronaldo Scorpioncino Mamma mia ragazzi 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 Ma che cazzo di gol Abbiamo fatto Sto game Holy shit Che gol ragazzi Incredibile Svegliate Cmente blue chu Grazie a tutti.